e poi adesso che la facciamo scendere l'abbiamo oh l'ischata bene potete prendere un po' piano piano oh l'abbiamo oh l'abbiamo oh l'abbiamo oh l'abbiamo ma la prima l'ha fatto un paio di volte l'ha fatto no l'abbiamo già visto che adesso è male si è male è male tu è prima tu è prima oh пол Vale oh 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 horrible well oh 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 ... ... ... ... Sì, non lo so, non lo so, non lo so Allora, te fai di fuori uniano! dai che si fa Marco dai che si fa è fatta e ma manca la salita e ma secondo me è corta la salita Sì, quella di liquidare basta, quella lì sì, questa qua, seconda, quella è più giusta la prima o no, vai qui, per ora, per ora, espero E poi ecco, ok, questa qua. E' più bella su di crisi, eh. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.